Sono Antonella Riccardi, una guida turistica, agente di viaggi e operatore di turismo esperienziale. Amo tutto ciò che l'uomo riesce a realizzare con le sue mani, che si tratti di un manufatto artistico, di un prodotto artigianale o di un piatto tipico della nostra gastronomia. Seguire il percorso formativo di Artes non solo mi ha permesso di diventare operatore di turismo esperienziale, ma anche di posizionarmi in maniera completamente diversa su un mercato turistico che ha sempre più bisogno di specializzazione, di originalità e di professionalità.